In Italia la principale fonte di entrate per la Chiesa continua a essere l'otto per mille. Nel 2012 sono entrati nelle casse della CEI 1.148.076.594 euro. A questo bisogna aggiungere le donazioni e le largizioni dei fedeli. Ma quanto guadagna un parroco, un cardinale e papà Francesco? Il messaggero ha realizzato un'inchiesta sugli stipendi della Curia. Un semplice prete prende circa mille euro netti al mese. Poi vengono i parroci che non possono guadagnare più di 1200 euro. I mensili dei sacerdoti e dei vescovi sono basati su una specie di punteggio che dipende dall'anzianità. I parroci con più esperienza possono arrivare fino a 1200 euro al mese, mentre per i vescovi si arriva fino a 3000 euro circa. Se un prete è anche un insegnante di religione, spiega il messaggero, l'istituto versa solo la quota che manca per raggiungere il tetto stabilito dall'anzianità. Più in alto si collocano gli arcivescovi, capidi di castero o di pontifici consigli. In questo caso gli stipendi variano dai 3000 ai 5000 euro. Più in alto ancora i cardinali, che in media guadagnano circa 5000 euro, i quali però sono stati colpiti da papà Francesco con tagli significativi dei gettoni di presenza. Sul fronte papale si sa che Benedetto XVI godeva di una rendita di 2500 euro, meno di un cardinale, più le somme per i diritti d'autore dei suoi tanti libri. Francesco invece non percepisce alcuno stipendio pur avendo la facoltà di attingere liberamente all'obolo di San Pietro. Da quando è diventato papa, Bergoglio ha applicato una sorta di spending review vaticana. Innanzitutto ha abolito il tradizionale bonus per i dipendenti della Santa Sede, senza perdersi in chiacchiere e false promesse di abolizione. Durante la sede vacante e l'elezione papale circa 1000 euro in più al mese. Poi ha bloccato gli stipendi di tutti i dipendenti, congelando scatti di anzianità e promozioni. Ha anche tagliato i gettoni di presenza di cinque cardinali membri della Commissione di Vigilanza della LOR, 25.000 euro all'anno.